dalla lettera a proba di sant'agostino vescovo a noi sono necessarie le parole per richiamarci alla mente e considerare quello che chiediamo ma non crediamo di dover informare con esse il signore o piegarlo ai nostri voleri quando dunque diciamo sia santificato il tuo nome stimoliamo noi stessi a desiderare che il suo nome che è sempre santo sia ritenuto santo anche presso gli uomini cioè non sia disprezzato cosa questa che giova non a dio ma agli uomini quando poi diciamo venga il tuo regno che volere o no certamente verrà e citiamo la nostra aspirazione verso quel regno perché venga per noi e meritiamo di regnare in esso quando diciamo sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra gli domandiamo la grazia dell'obbedienza perché la sua volontà sia adempiuta da noi come in cielo viene eseguita dagli angeli diciamo poi dacci oggi il nostro pane quotidiano con la parola oggi intendiamo nel tempo presente nel quale o chiediamo le cose che ci occorrono o ci bastano per vivere indicandole col termine pane che fra tutti è il più importante oppure chiediamo il sacramento dei fedeli l'eucaristia necessario nella vita presente per conseguire la felicità non quella temporale ma l'eterna quando diciamo rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori richiamiamo alla memoria sia quello che dobbiamo domandare sia quello che dobbiamo fare per meritare di ricevere il perdono quando diciamo e non ci indurre in tentazione siamo esortati a chiedere l'aiuto indispensabile per non cedere alle tentazioni e per non rimanere vinti dall'inganno o dal dolore quando diciamo liberaci dal male ricordiamo a noi stessi che non siamo ancora in possesso di quel bene nel quale non soffriremo più alcun male questa domanda è l'ultima dell'orazione domenicale essa ha un significato larghissimo perciò in qualunque tribolazione si trovi il cristiano con essa esprima i suoi gemiti con essa accompagni le sue lacrime di essa inizi la sua preghiera in essa la prolunghi e con essa la termini le espressioni che abbiamo passato in rassegna hanno il vantaggio di ricordarci le realtà che esse significano tutte le altre formule destinate o a suscitare o a intensificare il fervore interiore non contengono nulla che non si trovi già nella preghiera del signore purché naturalmente la recitiamo bene e con intelligenza chiunque prega con parole che non hanno alcun rapporto con questa preghiera evangelica forse non fa una preghiera malfatta ma certo troppo umana e terrestre del resto stenterei a capacitarmi che una tal preghiera si possa dire ancora ben fatta per i cristiani e la ragione è che essendo essi rinati dallo spirito devono pregare solo in modo spirituale grazie a tutti